Perché poi è uscita fuori anche la cosa di... No, 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 vi ringraziamo. Prego, prego, io accetto i suoi ringraziamenti. Vi ringraziamo perché, no, direttore, vi ringraziamo perché molte delle cose le veniamo a sapere da voi perché non le sappiamo neanche direttamente noi. Quindi grazie per questo servizio di intelligence che vi dovete fare, non lo brillante. Colgo l'ironia, però le assicuro che non so perciera. I servizi segreti lo sanno, però comunque... No, 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 però gli interessanti sì e non sempre non escono dal loro proverbiale riserva. Grazie, grazie, io prendo... No, no, certo. Ci sono tante volte che sentiamo notizie... Guardi, le assicuro che è vero. Ci dite cose che non sappiamo neanche noi. Le assicuro che è vero. È davvero un mondo meraviglioso. E so anche che c'è stata una seconda telefonata in cui Salvini ha chiesto a Zingaretti ma non è che Renzi può fare il governo con i Cinque Stelle? E ovviamente Zingaretti ha detto no. Poi però... Che questa, caspita. Questa, guardi, ci metto la mano sul fuoco.